Ciao ragazzi, oggi faremo un esperimento interattivo di mentalismo con le vostre date importanti. Bene, eccoci qui. Allora, innanzitutto vi chiedo di prendere un blocco e una penna oppure la calcolatrice del vostro cellulare sedetevi comodi e seguite le mie istruzioni. Come prima cosa chiedo ad ognuno di voi di scrivere l'anno di nascita, l'anno in cui siete nati. Io scriverò il mio. Fatto? Bene. Dopodiché vi chiederò di scrivere un anno importante, un anno significativo della vostra vita. Scrivete il vostro e nel frattempo scriverò il mio. Bene, avete fatto. Ora scrivete sotto l'anno importante della vostra vita quanti anni compirete entro la fine dell'anno oppure avete già compiuto quest'anno. Ed in ultimo vi chiedo di scrivere quanti anni sono passati da quell'anno importante della vostra vita. Bene. Avendo tutte queste informazioni una in fila all'altra, adesso vi chiedo appunto di sommarle e di ottenere appunto un numero finale totale. Voi fate i vostri conti e farò i miei. Ok, io ho ottenuto un totale. Adesso vado a cancellare le mie informazioni per non andare ad influenzarvi e ho come la sensazione che molti di voi, secondo me, hanno ottenuto lo stesso numero che ho io perché secondo, diciamo, le teorie occidentali ogni entità, ogni individuo è a sé stante, non è connesso tra gli altri. Ma invece, se ascoltiamo le filosofie orientali, abbiamo una connessione tra i vari individui che popolano la Terra. E io credo di aver ottenuto questa connessione con diverse persone di voi, magari non tutte, ma credo che con una buona parte di voi ci sono riuscito. Infatti il mio totale è 4040. E se anche voi avete ottenuto questo risultato pur avendo vissuto esperienze diverse, quindi avendo avuto diversi anni importanti nella vostra vita, essendo nati in anni differenti, fatemelo sapere nei commenti e se l'esperimento vi è piaciuto, come sempre, vi chiedo di mettere un like al video e di supportarmi iscrivendovi al mio canale YouTube. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!